The Last of Us Remastered Il miglior gioco dell'anno è finalmente arrivato su PlayStation 4 Un'avventura spettacolare dal coinvolgimento senza precedenti Un viaggio straordinario in cui ciò che conta davvero è sopravvivere The Last of Us Remastered I migliori giochi sono su PlayStation 4 Un'avventura spettacolare dal coinvolgimento senza precedenti